Gentili telespettatori, buona giornata. Paolo Mieli sogna un governo tecnico come tanti di sinistra, perché l'Italia è stata abituata a governi... avete visto, il governo precedente a questo è durato 5 anni, è durata la legislatura, ma quanti governi ci sono stati dentro? C'è stato dentro il governo Conte 1, il governo Conte 2, il governo Draghi, tre governi in cinque anni, quindi un governo ogni anno e mezzo, più o meno, la sinistra dice che questi governano già da un anno, è quasi ora, bisogna cambiare adesso, quindi si stanno già preparando e fanno anche le liste dei ministri, vedono cose, parlano con gente, dice beh, non può durare un governo Meloni 5 anni, perché no, dobbiamo fare governi tecnici, rimpasti, e così i suoi esponenti anche di sinistra televisivi, come Paolo Mieli, anche se Paolo Mieli a volte sembra faziosissimo, in altri casi ti dice quello che pensa senza che sia incasellato a destra e a sinistra e lascia un po' i suoi seguitori un po' così, ecco. Dice no, non arriva un mamma santissima dell'economia, dice Mieli, un mamma santissima dell'economia. No, no, non arriverà un nuovo tecnico a Palazzo Chigi, anche se una candidata lui ce l'avrebbe, dice Paolo Mieli, ospite a Omnibus sulla Sette, risponde a una domanda di Alessia Sardoni, sullo spettro di un governo tecnico alle porte, ventilato durante queste settimane, ventilato da quelli di sinistra, che sognano questi governi tecnici, allora ti tirano fuori delle indiscrezioni, ve l'ho sempre detto che l'indiscrezione non è una notizia, l'indiscrezione è una cosa che un giornale scrive, o qualcuno dice in televisione, c'è un'indiscrezione, me l'hanno detto, ma non posso dirti chi perché è una fonte che devo tutelare, quindi l'indiscrezione è che quando qualcuno ti dice guarda che ho saputo che, però quell'indiscrezione potrebbe essere completamente vera, completamente falsa, o parzialmente vera, parzialmente falsa, quindi quando c'è qualcuno che ti dice ho sentito dire che, non è una notizia, ma potrebbe essere quello che lui vuole dire, o vorrebbe dire, ma non è vera e se la inventa, dicendo ho sentito che, e ti dice quello che lui vuole dire, ma è una roba che si è inventato, facendoti credere che lui l'ha sentita, no? E così quando questi personaggi come Mieli ti dicono lo spettro del governo tecnico che si è sentito ventilato in queste settimane, ma chi l'ha ventilato? Il ventilatore. E poi aggiunge Mieli, il complotto è impossibile in questa legislatura, chiunque ne parli sta dicendo un'altra cosa, il complotto è impossibile, ma cosa vuol dire il complotto in questa legislatura? Chi dovrebbe fare il complotto? Il governo, fuori dal governo, complotto cosa vuol dire? Detto così, gomblotto, secondo il giornalista è impossibile sostituire un governo che è una maggioranza chiara ed espressa dagli elettori. Evidente a tutti e guidato da una donna giovane con una mamma santissima dell'economia. Con un mamma santissima dell'economia. Chi sarebbe sto mamma santissima dell'economia? Perché dice così, attenzione, governo che è evidente a tutti guidato da una donna giovane con un mamma santissima dell'economia. E chi sarebbe Giorgetti il mamma santissima? Ma che che? Vabbè. Ma in caso Mieli avrebbe pronta una sua candidata, docente universitaria della LUIS, Guido Carli, la LUIS si chiama Guido Carli, un passato formativo all'Università della Sapienza di Roma e alla Columbia University di New York, ex membro del Consiglio degli Esteri del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è il ritratto di Veronica De Romanis, che è donna ed è competente in economia. Lo dico da anni. Vabbè Mieli, tu puoi fare lo sponsor delle persone. Però ironizza il giornalista, fare un complotto per Veronica De Romanis è troppo. Vabbè, tutta la sfilza di titoli che ha detto Mieli, che ha docente di qua, che ha di là, guardate che la laurea non è necessaria per fare il capo del governo, la Meloni non è laureata, Salvini non è laureato. Per esempio, hanno il diploma di scuola superiore, ma non hanno né dottorato, né master, né laurea. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che un politico debba avere una laurea, né tantomeno il Ministro dell'Economia debba avere la laurea. Mi ricordo che c'era un Ministro dell'Economia, che era un geometra, per esempio. E poi, ad esempio, avete visto, durante la pandemia abbiamo avuto come Ministro della Salute Speranza laureato in Scienze Politiche, ma poteva anche non essere laureato. Per esempio, per arrivare ai vertici di un sindacato, Landini ha la terza media, per esempio, non ha neanche un diploma di scuola superiore. Quindi, se voi guardate, per esempio, oggi i vertici dei sindacati, terza media, capo del governo diploma, vice premier diploma, il Ministro Giorgetti è laureato in Economia, per esempio. Però il titolo di studio non fa il politico. Non è per niente considerato il titolo di studio. Più probabili, dice Mieli, le elezioni anticipate. Mi sa che se ci fosse una crisi, per qualunque ragione, sono possibili elezioni politiche anticipate anche prima dell'europea. Ah, Mieli, sogna! Sogna, sogna, Paolo Mieli, vivi nei tuoi sogni di elezioni anticipate prima delle europee. Ma davvero questo Mieli crede alle elezioni anticipate? Le europee sono il 9, se corriamo riusciamo a fare le elezioni. È un po' quello che era successo quando c'era il governo precedente, quello di Draghi. Ogni giorno, se cade oggi, si possono fare le elezioni fra quattro settimane, cinque settimane, prima di Natale. Insomma, ogni giorno si sperava, nella caduta di quel governo, beh, se cade oggi, si può andare a votare. Se cade fra una settimana, niente, doveva cadere da un momento all'altro, ma era la speranza di tanti. E poi si è arrivato a quello che abbiamo visto. Comunque, Mieli sogna di votare prima delle europee. Sogna, sogna, Mieli. Elezioni anticipate. Sto facendo scommesse con tutta Italia che avrà un ottimo risultato, è l'Isline. Eh, si sta vedendo. L'ultimo sondaggio Ipsos dava il PD in discesa al 18,5%. La Schlein prende il PD al 16, lo porta al 22 e lo sta facendo retrocedere verso il 16%. Ottimi risultati, direi. Grandi. Arrivederci a tutti.